No, 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 no 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 Hai visto che grande caprone Questo qui è il papà dentro di tutte le capre Yeah, yeah, yeah Eh, 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 eh Oh, 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 oh Per taglia come quella ovina della Caprina sono particolari Generali sono già più E' una buona Meglioramento delle Che è la buona Che è la buona Che è la buona Che è la buona E fuori Che è la buona Esi Poi G Cancer Poi Asciutto Questa è la buona Il portatore più importante Quindi deve essere ancora E poi a volte e passiamo la motorezza poi adesso è quello di questa giornata è importante per un po' di ragione e poi fa il riferimento i croci che faranno sì che la brole grazie 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 a tutti.